guarda un po' se è andata che non ci sia la maschera che ci sia la telecamera si si che è la telecamera adesso devi girare si allora una e due aperta devi girare in senso antiorario se vai arrivare fai un giro se vai in là togli che viene giusto ma infatti devi girarti in senso antiorario ecco no no è così di qua ecco e poi quando è su quando è su mi giro di là giusto? si mi giro di là ti giri in senso o un rario? così così è quello che ti dicevo dovresti girarti in senso eh no come ti direi mi giusto sei re eh scrivi con la destra si e allora 9 su 10 giri per questo eh si no lui l'altro giorno l'altro giorno ha messo bene adesso un po' più bene ecco sta attento posso provare posso provare? si si il piede è destro eh ah si bravo ho visto che non viene ha guadagnato il vento eh non ce l'ho fatta io Renato Renato ora arriva Renato ora arriva ah si e allora e allora prevolata ma è nia ecco E ma il vento mi ha portato? Perché se mi giro di là allora faccio resistenza, no? Non lo so bene, in realtà non vorrei neanche perché la collezione è fatta che mi stai girando per così, questa parte anziché per così. Allora? Naturalmente tu dovresti girarti per così. Aspetta, quando sono giusto? Perché ora non lo divido bene. Ora avrò mica da... No, va bene, va bene. Non hai fatto un filo qui all'esterno, però tu ti dovresti girare... Di là, verso qui. Verificalo, perché se ti viene da girare invece nell'altro senso, allora ti bevi... Aspetta, eh? Così? Sì, perché no? Ho fatto di là? Sì, però è perché non sta bene. Sì, per esempio... ... ... Grazie a tutti. Provo? Ora il vento, non sono io. Il vento è come la porta in un'altra maniera. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.